Assoluzione per Michele Bordoni, il ragazzo di Poggi Ridenti che il 9 dicembre 2017 entrò in piazza Garibaldi a Sondrio con la sua Iaris, seminò il panico, diverse persone ferite. Oggi l'udienza preliminare davanti al giudice Giorgi, l'imputato non era presente in aula, sentiamo subito la sentenza e i commenti raccolti al termine. E' assolto per vizio totale di mente, Rems per anni 5. Hai già scelto anche la Rems? No, non so, non è competenza nostra comunque. Michele Bordoni, 28 anni di Poggi Ridenti, all'epoca dei fatti guardiano di una diga, era accusato di strage. Quel terribile giorno aveva investito tre persone nella centralissima piazza Garibaldi di Sondrio. Il processo di primo grado, che si è svolto con il rito abbreviato, si è dunque concluso con una soluzione. La soluzione per quale motivo? Completa inimputabilità, vizio totale di mente. Momento del fatto? Sì signora. Pensate di fare dei passi in questi? La motivazione poi decideremo se impugnare o meno, si può impugnare quindi valuteremo. Una volta depositate le motivazioni il cui termine per il deposito è di 60 giorni da oggi. Si è discusso sulla pericolosità sociale dell'imputato e sulla misura da applicare nei suoi confronti. Le ipotesi sul Campo 1-3, carcere, libertà vigilata o REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, fino a pochi anni fa conosciute come ospedali psichiatrici giudiziari. Il giudice per le udienze preliminari Fabio Giorgi ha disposto per Michele Bordoni quest'ultima soluzione. La pericolosità sociale, qual era stata l'ultima valutazione? Da parte del perito del Tribunale era una pericolosità sociale sussistente, che necessita evidentemente di una misura di sicurezza. Oggi non era presente? Oggi non era presente per una scelta difensiva, oggi comunque non gli sarebbe stato chiesto nulla, poi comunque è una fonte di stress evidentemente anche per lui, quindi è meglio lasciarlo tranquillo. È un soggetto che comunque ha dalle patologie, è da malato, quindi non stiamo parlando di una persona che se ne frega tanto per essere chiari. Su quello che è accaduto quel giorno lui torna con la mente e ne parla? Ne parla, ma ne parla con chi lo segue, professionisti, psichiatri, psicologi, non certo con l'avvocato.